eccoci qua benvenuti benvenuti a questa nuova intervista di Nercore oggi ho qua con me Lorenzo Ceccotti è veramente un onore grazie mille grazie mille di essere qua guarda eh cioè io lo dico proprio da fanboy lo ammetto cioè lo dico proprio da sta persona che io l'ho detto più volte comprerebbe anche i volantini del car e forse li disegnassi tu quindi ti ringrazio tantissimo per essere qua eh tra l'altro oggi parleremo perché comunque lo diceva beh disegnatore della madonna non solo perché comunque anche grandissimo appassionato di videogiochi e videogiochi anche penso di ogni epoca da quelli vecchi a quelli più recenti sarei disonesto nel dire che nel non confessare che comunque i videogiochi recenti che vorrei anche giocare tendo a giocarli poco perché banalmente non è che abbia tutto questo tempo e soffre un po' del fatto che videogiochi moderni sono tutti molto esigenti in termini di tempo no? cosa hai giocato? c'è qualcosa la cosa più recente che hai giocato? qual è stata? fammi riflettere il gioco più recente a cui ho giocato al di là di beh Tekken 7 oramai non è neanche più tanto recente in verità già che è vero che te Tekken 7 c'è questa storia bellissima che ti erano cancellati completamente tutti gli achievement esatto e sei riportito da zero esatto secondo che controllo una cosa sì ok perfetto no l'audio dovrebbe essere corretto sei perfetto sì sì benissimo sì no praticamente è successa questa roba bizzarra che io ho un cioè Tekken ha questa caratteristica di mandare un po' in difficoltà il mio povero computer che ogni tanto droppa il driver della scheda video è un problema delle nvidia del geforce in generale mi fa mi va in time out ok quando va in time out se succede questa cosa qua e succede molto di rato e l'applicazione si blocca ora perché una volta stavo ho appena vinto un torneo peraltro ok e di quelli online che si possono organizzare su su twitch su online e in buona sostanza lui ha ha crashato mentre stava salvando quindi nel momento peggiore i miei dati ora il punto qual è che steam fa un backup automatico dei tuoi dati di salvataggio ogni volta che tu fai partire il gioco ogni volta che non è ok check quindi l'ho fatto riavviato il computer lui ha checkato i dati locali del mio Tekken li ha copiati online e ha sovrascritto i miei dati online con i dati con roba quindi io quando ho fatto partire il gioco il gioco ripartito vanilla cioè come se non avessi mai giocato al gioco ci sarà un modo di avere un backup invece no zero perso tutto sono sparito tutti i rank online e quindi ho dovuto fare questa cosa folle che è stata secondo me una roba pure anche molto bella per capire veramente come funziona un gioco come Tekken cioè io mi sono sempre chiesto ma io sto migliorando Tekken sto salendo di rank molto e quindi è un gioco che piano piano ti fa salire a crescita diciamo migliorando di via via esatto oppure una roba seria perché io per arrivare al rank dove sono arrivato ci ho messo comunque boh forse due anni una roba del genere comunque di gioco non voglio dire quotidiano ma in alcuni momenti della mia vita sì cioè sono stati mesi tipo due tre mesi in cui magari mi potevo fare sempre la mia partitina la sera l'ho sempre fatta e ci sono stati dei rank ad esempio mi ricordo il passaggio dai rank verdi ai rank gialli quelli juggernaut con la roba lì mi ricordo che ci ho messo anche forse sei mesi cioè una roba folle per arrivare a quel livello di lì e invece quando ho ricominciato da zero sono diventato blue rank che era dove era arrivato cioè fujin che comunque diciamo il penultimo blocco prima dei top e stavo insomma nel 3 per cento dei giocatori del mondo quindi insomma era una posizione buona e potresti fare tornei no quello no perché mi farebbero pezzi però diciamo tornei fra principianti se li potrei iniziare diciamo una promozione serie promozione calcistica a livello 6 diciamo serie c eccellenza 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 è bella come parola e e quindi no la cosa interessante è che sono ritornato a fuggire in una settimana quindi con una strana sensazione quindi di onnipotenza ecco come dire perché ovviamente ti rendi conto che effettivamente qualcosina avevi imparato forti si diventa forti si è imparato a giocare veramente quindi questa è una cosa molto figa soprattutto se consideri che il 3 per cento dei giocatori vuol dire che se prendi 100 persone ci sono solo tre che ti possono battere fa molto ridere esatto e ti fanno molto male quando ti batte un'altra cosa molto interessante di questa cosa qua per toccare un attimo il mio aspetto artistico e per fattere la contorta psiche io spesso vengo diciamo tacciato di essere eccessivamente umile di non prendermi i meriti le robe ora il punto fondamentale è che quello che dico banalmente che siccome io sono consapevole di dove voglio arrivare sono molto ambizioso e so perfettamente che certi livelli non li raggiungerò mai vivo in questo scorno cioè ce la metto tutto ovviamente per raggiungere però lo so quando è che non arrivo alla qualità che vorrei certo faccio un lavoro tutti dicono ma è fantastico e dico ma no ma ragazzi una schifezza ho sbagliato questo 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 e questo considera che non tutti hanno la tua capacità di leggere forse l'immagine no 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 ma il problema è proprio quello cioè i picchiature sono interessanti perché perché ti dimostrano il fatto che tu puoi sconfiggere 97 persone su 100 ma quelle tre che vuoi sconfiggere non sconfiggerai mai almeno che non diventi il bravo di loro ok quindi in un certo senso si può dire che io adesso è come se fossi un blue rank no nella mia arte no è chiaro che non è una gara ma infatti non è una gara contro gli altri una gara contro me stesso cioè l'ora in cui io voglio raggiungere una qualità che ancora non ho so le cose che mi mancano e quindi per quanto cioè se io gioco sempre con le persone del mio palazzo è ovvio che vincerò sempre io e tutti penseranno che sono imbattibile la verità è che non sono imbattibile manco per niente basta vedere gli ultimi replay degli ultimi match che ho giocato che ho beccato uno che ha Yoshimitsu come me ma ha vinto tipo 75 partite 0 quindi insomma che già usare Yoshimitsu non è proprio una roba facile mi ricordo è anche difficile giocarci contro se non lo conosci quindi pro e contro dai è un personaggio pericoloso da utilizzare ma che comunque vuol dire fino a quando stai appunto nei ranking in cui sto io che sono appunto quelli un po più debolucci ancora non sono certo nella zona god prime però sì diciamo se vecchi un giocatore che conosce poco il match up lo fai piangere se giochi uno che sa giocare te la vedi molto peggio tu perché i fondamentali Yoshimitsu sono scadenti gli mancano una serie di tool proprio di base che sono indispensabili li rimpiazza con questa roba un po con le party moves quindi fondamentalmente per te c'è anche nel disegno ti senti un po come in un grande shonen in cui tipo dragon ball te dici ok sono super saia un 4 però cavolo c'è il 5 che mi mena e ti senti un po così sia nel tec che nel disegno nell'arte sì però diciamo ecco secondo me l'arte è molto peggio di dragon ball nel senso che quello che devi pensare è che gente come mozart o rembaud o andrea pazienza hanno fatto quello che hanno fatto nei primi 30 anni della loro vita no e e hanno finito lì cioè nel senso pazienza tutto quello che ha fatto che abbiamo l'opera di uno di uno dei tre più grandi fumettisti che sono mai esistiti in italia si è fermata a 30 anni e aveva fatto già tutto ok io non ho fatto ancora una cosa di quel livello ovvio che che un po di ansietta di cioè l'ansietta poi uno si deve pure accettare per quello che è va bene così però se ti metti a pensare no sulla qualità e la qualità bisogna essere un po obiettivi e accettare il fatto che ci sono delle differenze che non sono anche io se mi misuro con gente del giornalismo o scrittori non sto nemmeno a un discorso un po così per tutti quindi ecco no io lo dico semplicemente questo perché io ho la fortuna sfortuna cioè mettiamola così è proprio stata una fortuna spudorata di essere probabilmente nato in un momento in cui erano tutti imbriachi e quindi mi hanno nominato come miglior disegnatore ci ho avuto nomination e premi no ma è evidente che guardavano il posto cioè erano distrattissimi quindi io quando ho ritirato il mio premio al non me lo scorderò mai ho avuto la lucidità quando ho ritirato grazie a dio quando ho ritirato il mio premio miglior disegnatore al treviso comic book festival è stato quello di dire che era stato un furto perché oltretutto nel nominate c'era scalera che non so se sapete chi è un disegnatore incredibile e quindi voglio dire veramente incredibile che sono tutti i giorni a sbavare sulla roba sua quindi non ci pensavo proprio no prima di cominciare già è arrivata una domanda interessante intanto ti fanno i complimenti per golem grazie a cui mi unisco mi permettono mi permetto di farti complimenti a Lorenzo Dorato Astro Gamma avendo letto anche altri tuoi lavori chiedo una semplice domanda visto che nel tratto c'è una forte propensione al manga a chi ti ispiri sbaglio a rivederci dell'Urasawa in quel che hai prodotto ma allora Urasawa sai è un disegnatore molto particolare perché per certi versi somiglia un po' a Otomo come tipo di non dico graficamente dico come impostazione generale è un disegnatore che tutto sommato un flavor considerevolmente occidentale cioè molto vicino a cioè io adesso dico una bestialità però secondo me Urasawa potrebbe disegnare una testata Bonelli non so come dire è un pochi mangaka che potrebbe disegnare una testata Bonelli chiaramente rimanendo spudoratamente giapponese però ha quel approccio al disegno del reale no che lo avvicina molto al disegno occidentale a me quello che mi interessa di Urasawa è la sua scrittura principalmente la sua idea no di come sono strutturati i suoi fumetti e e quindi sì da quel punto vista Urasawa mi interessa tantissimo proprio anche nella regia più nel modo in cui raccontano che non nel disegno quindi sì cioè nel senso a parte sono contento che si è piaciuto Astro Gamma a cui sono molto affezionato e che è un libro un po' invisibile nella mia produzione ma gli voglio un gran bene qual è la tua opera che più hai adorato? mi butto ad affezionato? beh adorato mai e affezionato affezionato per forza Golem ma più che altro che il fatto che è un è un fumetto che mi ha cambiato la vita quindi sarei un imbecille a non metterlo in primo grado no fra le cose più a cui sono più affezionato cioè se non ci fosse fatto Golem non staremmo neanche a parlare quindi prima parlavi di momento perfetto ecco se c'è un momento perfetto è stato tanto per entrare nell'argomento che avevamo scelto è stato quello in cui i primi personal computer Commodore 64 poi l'Amiga sono arrivate nelle casette giuste anche lo Spectrum anche lo Spectrum nello Spectrum sono arrivate nelle casette giuste e un attimo solo perché qui ci deve essere qualche sorpresione perché prima ho visto delle cose che adesso voi vedrete in live 64 io avevo tutto il mod per la sd card ok è vero comunque se diciamo che perché tra l'altro grandissime passioni ci sono i videogiochi e c'è soprattutto appunto il retro gaming e un certo periodo in particolare sì diciamo il periodo 80 90 sì se vogliamo dire brutto anche perché poi allora sai qual è il problema fondamentale è che per me non esiste retro gaming giusto io sono nato tipo Obelix sono cascato dentro i videogiochi quando sono partiti quindi io li ho giocati tutti quando erano carment gen cioè per me ti capisco per me lo Spectrum è stato next gen cioè nel senso non quindi banalmente io non ho mai vissuto il retro gaming come esperienza tant'è che recentemente proprio rispondevo questo è un bel punto di vista rispondevo a un tizio meraviglioso che è Ravetto Fabio Ravetto che mi Fabio mi pare che fosse dei due uno dei due Ravetto Brothers faccio l'errore adesso di confonderli però sì mi pare che Fabio Ravetto e quello che ho fatto è stato rispondere a una sua domanda su retro gaming su la pixel art principalmente e io credo che in modo più semplice per spiegare come io vedo la grafica del retro game cioè dei giochi retro inspired del retro vibe in generale è che io credo che ci sia della gente che vede la pixel art come io posso vedere il Colosseo cioè per me il Colosseo è uno spartitraffico bellissimo in cui ci viene un sacco di gente a vederlo ma mi risulta un atto di fede quello di pensare che è stato un posto dove c'era della gente seduta che andava a vedere dei giochi i spunti fra le navi esatto quindi quella roba lì certe volte dico ma uno che vede Art Type oggi e che è nato vent'anni fa cosa pensa di quella roba lì? cosa vede? la vede in più 99,9 su 100 la vedrà su un monitor LCD quindi con i pixel che non hanno più le proprietà per cui sono stati disegnati perché quei pixel negli anni 80-90 venivano disegnati con l'idea che il pixel dovesse sparire in qualche modo dovesse essere lo vede così e vederlo così è la cosa peggiore del mondo perché i pixel io quando giocavo Art Type mi sembrava di non vederli cioè per me con l'astronava era veramente d'acciaio luminescente le stelle brillavano cioè le scanline erano fondamentali esatto ma anche proprio la natura del fatto che venivano i pixel venivano illuminati con un cannone con un fascio luminoso che li faceva uscire fuori sede non erano quadrati i pixel erano dei fantasmini luminosi che oscillavano sullo schermo quindi significa proprio che è impossibile per una persona che non ci ha giocato al momento giusto ok capire le scelte artistiche dei disegnatori una cosa molto bella peraltro in quel libro che mi hai consigliato tu ok esatto che è quel primo là bellissimo la roba meravigliosa è che loro hanno scattato le foto ad AICRT adesso qua non si capisce niente però non sono delle foto in cui i pixel sono quadrati incisi stampati direttamente dal file digitale ma sono stati acquisiti con un processo fotografico ed è il modo in cui dovrebbero essere visti i pixel peraltro se tu cerchi su internet visto così lo apri sul tuo browser c'è un blog che ho cominciato tanti anni fa scritto malissimo in inglese peraltro che si chiama bratakas.blogspot.com il nome già la fa prendere bene esatto ed è un blog che volevo aprire che volevo seguire sull'idea di megagame che è una roba che se vuoi dopo magari tocchiamo però ci sono delle foto fatte a Shadow of the Beast da un monitor CRT e qualcosa si è scritto con una T e due C ah quindi è bratakas esatto .blogspot.com eccolo qua scendi giù da qui parte benissimo vai giù 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 e ci sono ecco qua ecco qua vedi là c'è una ecco quello è uno screenshot è una fotografia a un monitor CRT con un'immagine pixel dentro vedete che i pixel proprio non hanno l'ombra di essere quadratanti cioè no no sono soffici e quelli bianchi se vedi ad esempio quelli sul ginocchio che sono con un valore di bianco a 255 vedi quanto escono fuori hanno quasi un glow effect attorno sì 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 sono luminosi sono molto luminosi ed è molto bello per il fatto quando tu ti beccavi un tramonto contro luce come quelli di Shadow of the Beast 2 effettivamente tu avevi questa sensazione di ombra e di luce ed era una roba pazzesca quindi considerato che poi sono giochi che giravano a 16 colori e quindi sembravano che ne avessero infiniti sì che era incredibile l'effetto esatto quindi adesso tralasciando chiaramente il copper dietro che è quell'effetto che crea quei gradienti pazzeschi nei cieli dei giochi per amica però ecco è fondamentale capire il fatto che la pixel art come la concepiamo noi oggi non ha niente a che vedere col motivo per cui certe robe sono nate non è un caso che alla fine negli anni è prevalsa la pixel art grafica cioè quella che in realtà rappresenta il mondo un po' anime style no? che è quella Nintendo per capirci sì 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 più grafica mentre quella pittorica è andata persa proprio perché non ha veramente più un gran valore proprio perché non ha più un display compatibile con quello stile grafico infatti io l'unica cosa bella che ho adesso è avere il NeoGeo con un CRT eh assolutamente per me è fondamentale perché ho bisogno di quel tipo di morbidezza anche no 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 ma è indispensabile se no non capisci la grafica e non capisci le scelte che ci sono dietro ai vari no no è vero incredibile ma che poi continuando su Psygnosis loro fu veramente un punto d'incontro fortissimo tra vari tipi di artisti così come fu per Bitmap Bros per Sensible Sock per la Sensible Software cioè erano veramente il momento in cui si cominciò a guardare il videogioco con un occhio completamente diverso assolutamente sì ma probabilmente sia una roba molto bella io immagino che tu lo sappia però qualora racconta racconta è bello ok allora c'è stata una software house importantissima per Commodore 64 che si chiamava Hyper Spectrum che si chiamava Imagine certo la Imagine the name of the game no loro erano fortissimi a fare le conversioni ma sono stati anche autori di alcuni giochi originali memorabili e Imagine era stata fondata da una serie di ragazzini alla fine che sbancarono perché sono stati un caso eclatante cioè sono la cosa che somiglia di più a quell'inizio incredibile fulminante dei Tenenbaum di Wes Anderson in cui siete il bambino che gioca in borsa ed è il più grande economista del mondo ecco e la cosa che è interessante è che loro si sono ritrovati con un patrimonio spaventoso avevano addirittura una scuderia di Formula 1 ok avevano tutti 16 anni 17 anni al massimo e loro decisero di investire tutti i soldi che avevano in questo mega game che doveva essere Cyclops e un altro gioco che si chiamava Bandersnatch da cui è tratto pure ovviamente il nome di quell'episodio di che era Black Mirror di Black Mirror esatto quello interattivo ora quello che è interessante è che loro avevano pensato a Bandersnatch e a Cyclops come due giochi che erano talmente al di là dell'hardware disponibile che avevano una necessità di una donna per funzionare questa roba li portò alla bancarotta più totale immediatamente per cui eccoli qua eccoli qua ritrovato questa è bellissima Cyclops e Bandersnatch è il primo vaporware verissimo della storia di videogiochi il primo grosso vaporware esatto e la cosa che è interessante vedete che questa questa immagine ci illustra che loro stavano assumendo gente i più bravi in circolazione li tiravano dentro ecco quello è il logo di Imagine famosissimo the name of the game erano i famosissimi loader dell'Imagine dell'Ocean esatto computer wizards dice proprio esatto e la cosa interessante è che questi due giochi non uscirono mai loro fallirono completamente c'è questo si chiama c'è un bellissimo documentario della BBC su di loro non è From Bedroom to Millions esatto mi sa una roba del genere forse sì che parla un po' di tutta la scena no 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 c'è uno proprio sulla Imagine sulla Psygnosis ci devo guardare un attimo tanto c'è un bellissimo altro libro di quelli che hanno fatto quello su su punto su Big My Brothers che è l'altro libro invece che è Britsoft ok ah sì sì bellissimo che racconta proprio queste cose qua perché questo tutto questo movimento andrà sotto il nome di Britsoft alla fine assolutamente la cosa interessantissima qual è che poi tutti quelli ricchi di quella scena lì comunque quelli che hanno avuto un grande successo sono comunque impazziti cioè pensa pure è vero come si chiama lui John Air è diventato un Brexiter di quelli seri no aspetta mi manca c'è uno incredibile aspetta quello che ha fatto ah Minter no Jeff Minter sta una bomba che c'ha i suoi lama lì è impazzito però in una maniera buona no è il tizio che ha fatto aspetta c'è l'originale attenzione intanto io credo di aver trovato qualcosa su Psyclaps però non so se è quello da un'altra roba Jets et Twill ah ok lui si chiama la cassettina mi scordo il suo nome sempre il gioco è? Jets et Twill ah Jets et Twill ok aspetta allora lui ha questa storia incredibile che è sparito a un certo punto della sua vita non si pensava fosse morto Matthew Smith si chiama e c'è un bellissimo documentario su di lui del compianto Paolo Caredda che si chiama Spectrum Diamond e lo trovate pure su Youtube mi pare ed è un bellissimo documentario su Matthew Smith sulla storia diciamo assurda di Matthew Smith quindi no Matthew Smith è uno che ha fatto diciamo non chiedo scusa ha sbancato lui altro che bancarotta andava da paura comunque no dicevo di Imagine Imagine viene rilevata da questo tizio che si chiama Janne Tarrington una specie di conte meraviglioso di credo di Liverpool mecenate che se li tira tutti dentro e apre Psygnosis Psyclips diventerà da che era il nome diciamo di un videogioco diventerà invece il nome di una etichetta budget della Psyclips ecco qua abbiamo un gioco Psyclips ecco qua questo è il luogo di Psyclips vedete questi luoghi della Madonna sì tutti fatti da Roger Dean che è questo disegnatore pazzesco meraviglioso famoso già questo Roger Dean ok famoso soprattutto per il suo lavoro per gli S e per essere stato saccheggiato per quel film che si chiama Avatar di esatto ora metto un po' di roba di Roger Dean tra l'altro la cosa interessante è che il fatto di Roger Dean con loro segna proprio questo passaggio di un gruppo di persone che decidono veramente di legarsi ad artisti della Madonna penso a loro con che Ian E.Teddington impone sostanzialmente una regola e cioè che tutti gli artisti che entrano dentro Psygnosis non devono essere in grado di usare un computer questa cosa che non sapevo ed è bellissima è una roba molto rilevante cioè loro premiavano gli artisti veri cioè i game artist erano visti con un occhio diciamo non buono perché erano presi per autori che non avevano una vera cultura artistica in buona sostanza ma erano tecnici no? gli mancavano le basi esatto quindi a loro gli interessavano artisti veri e questa cosa qua la riprova è il fatto che già di Psygnosis diciamo se è una cosa che hanno che proprio non gli si può come dire minimamente è l'impianto grafico sicuramente ma anche nella cura del logo secondo me la bellezza di Psygnosis secondo me che troviamo perché faccio una rapida carrellata ho trovato sì esatto ho trovato tra l'altro questo sito che raccoglie un po' tutte le copertine che tu hai già quindi nel senso le facciamo vedere da te e si fa meglio Strix con la copertina di Peter Andrew Jones questa è la più brutta copertina della storia dell'umanità ma è per il più bel gioco che hanno fatto che c'è The Beast 3 sì il migliore il gruppo di sicuro vabbè Lemmings sono tutte un po' così così ma già con i Lemmings si parlava di un altro tipo di Psygnosis secondo me Festation questa cosa degli insetti ce l'avevano un po' questo è il Gozio di Big Mac Brothers che non c'entra nulla ma è bellissimo però è bellissimo lo stesso Barbarian che a rivederlo ora era veramente ingiocabile Barbarian sì era veramente un gioco folle Terror Pods mamma mia che bellezza Scythron c'ha una copertina bislacca oltretutto interessante Scythron perché sembra venuto da un'altra software house ma non è un caso che abbia anche la musica di Matt Furniss che non c'entrava niente sembra un gioco recuperato da qualche altra parte Barbarian 2 scritta stilosissima questa è una roba veramente fatta come se fosse volevo veramente imitare Frazetta Amnios poi avevano questi nomi fantastici incredibile questo è proprio un gioco pazzesco mettiamo full screen la copertina perché è una roba pazzesca vediamo se riusciamo ora la cerco veramente bellissima la cerco anche in versione sì poi ci abbiamo un'altra copia di Beast 3 perché ce ne ho due perché hai due copie di Beast 3 perché è bellissimo Hobbitus che belle mamma mia questo è incredibile queste orizzontali sono le più stilosi sì quelle orizzontali sono sì questo è un momento che non ci stanno capendo molto di quello che devono fare è Red Zone che è un gioco figo però proprio non si capisce perché è uscito sotto questa etichetta questo è il gioco più infame della storia Aquaventura c'è avuto una storia folle raccontaci un po' la storia di Aquaventura e che ci hanno messo 50 anni a finirlo e quando è uscito tutti dicono beh tutto qua è un po' il problema dei giochi quando escono dopo un po' quello è vero sì ma in particolare Ork ha una copertina bellissima sì Ork è favoloso non so perché ma ha sempre ricordato non so perché Star Wars sai la come si chiama la Space Slug di Star Wars questo è un giocone Killing Game Show sì mamma mia ma cosa cosa merito che ricaccio veramente bellissimo primo Lemmings sì è un titolo fondamentale penso il primo Lemmings amore di storia del videogioco Cronquest comunque sulla psignosis mi sembra tu abbia un culto particolarmente alto Nitro bellissimo questo è un giocone veramente fighissimo Blood Money copertina di Peter Andrew Jones fantastica loro prendevano tantissimo appunto da questi illustratori che avevano lavorato con la musica soprattutto sì 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 Shadow of the Beast 2 copertina mostruosa bellissima no questa è incredibile veramente questa di Dean e questa qui sempre Roger Dean certo questo è sempre Roger Dean sì sì scusate Shadow of the Beast 1 quello Shadow of the Beast 2 infatti mi sembrava fosse l'1 ho detto no 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 era l'1 era l'1 questo è il 2 che Shadow of the Beast mi ricorda questa cosa bellissima della parallasse fantastico anche questa chiedono se le avevi tutte all'epoca o te li sei recuperati con calma ma allora io ho avuto sempre una fortuna enorme cioè che essendo caduto da piccolo nel retro gaming come dicevo io ho sempre comprato in quei momenti in cui le cose non valgono niente cioè quando veramente le cose non hanno nessun valore cioè tutti volevano il Super Nintendo la Playstation l'Amiga era una roba che si prendevano tanto al chilo i giochi la stessa cosa vale per le schede Jam Arcade e tranne alcuni rarissimi casi tranne alcuni rarissimi casi non ho mai comprato nulla che non fosse a dei prezzi gestibili sì no ti dico buona parte della roba che vede me l'hanno regalata dei magazzini dicendo piate non sappiamo che farci non ci posso ridere eh sì ma la stessa cosa io ti dico io ho una collezione di circa 300 Jam lo so me ne ha parlato buon Kenobit e di queste 300 ne avrò comprate 10 le altre andavo nei posti che dismettevano roba e me le regalavano portatele via non sappiamo che farci la metà sono rotte vedi quello che funziona ciao infatti anche io ora che sono entrato adesso un po' nel tunnel del NeoGeo MWS delle schede Jam ma in effetti devi stare ci vuole molta pazienza sperare di beccare quello che magari ti dà il gioco e cerchi sì sì no ma è così ecco ma del titolo di Psygnosis secondo te ecco cos'è che ha reso fondamentale quel trio noi parlavamo della Trimurti no Psygnosis Sensible Software e Bipabross cosa era secondo te che le ha resi fondamentali ma anche unici se vogliamo ma allora guarda secondo me io da da questo separerei Sensible separiamo la Sensi che in effetti aveva un altro approccio perché secondo me Sensible Software si è sempre molto più interessata no alle meccaniche di gioco innovative no e in più hanno sempre avuto un appiglio tutto orientato verso le meccaniche no del gioco e la parte grafica è sempre stata funzionalissima c'è un senso non tranne ecco guarda l'unico gioco che veramente della Sensible Software io porto nel cuore e trovo che sia veramente un una roba formalmente fuori dalla grazia di Dio cioè veramente stellare è Whitskid Whitskid è infatti la loro roba più folle che hanno fatto Whitskid per me sta come Another World cioè è quella roba lì nel senso sono quei giochi che non torneranno mai più ok e vabbè Whitskid è a parte però diciamo se dovessi ragionare su Psychnosis e Bitmo Brothers così come anche altre software house secondo me hanno fatto appunto penso a penso anche alla Talamus o penso a Delphine software e insomma ce ne sono diversi i software house che hanno fatto questo tipo a Gremlin sì però diciamo Psychnosis e Bitmo Brothers secondo me brillano splendono per il fatto che sono software house che hanno cercato di costruire comunque immaginari mondi completamente innovativi e unici ok e hanno capito il fatto che alla fine nel videogioco conta assolutamente la forma quanto la sostanza e cioè che la forma è la sostanza cioè tu non puoi non puoi paragonare cioè se uno si mette a considerare solo le meccaniche di gioco allora il 99,9% dei videogiochi è rilevante esattamente come il 99,9% dei film è rilevante quello che conta in un campo artistico come quello dei videogiochi è assolutamente anche la forma e io credo che siccome io adoro come dire l'idea che nei videogiochi quello che succede è una roba piuttosto unica che succede solo nei videogiochi che è quella di compiere delle scelte che ti portano a provare delle emozioni delle sensazioni io credo che sia di vitale importanza considerare la natura intera del viaggio quindi anche nel suo aspetto formale a me personalmente mi hanno regalato dei viaggi che non dimenticherò mai che magari sì avevano anche delle cose che non funzionavano da un punto di vista tecnico e da un punto di vista della giocattata i giochi di psignosis spesso non erano proprio sì ci sono dei giochi che sono al limite dell'ingiocabilità da un punto di vista tecnico ma che sono cioè Shadow of the Beast 2 è un gioco pensato male è impossibile da giocare però una volta che sai come giocarlo e sai come funziona e non stiamo parlando di una difficoltà tipo Dark Souls o questo gioco no 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 è un gioco che devi essere baciato dal Padre Eterno per finirlo è impossibile proprio ecco sono dei giochi che a conti fatti mi hanno regalato delle situazioni che io poi non ho rincontrato in altri videogiochi anche fra i più moderni cioè proprio a me se penso anche a Gods Gods è bellissimo però è un gioco veramente che si sembra di guidare un camion senza il volante con una chiave inglese attaccata direttamente allo sterzo però c'è una potenza evocativa incredibile esatto ma anche quella cosa di essere pesante tu quando caschi fai il fischio Gods cioè quella roba lì è interessantissima perché in qualche modo ti segnala il fatto che loro erano fissati con quest'idea del metallo del ferro della pietra e tutto quanto appunto fa parte del mondo degli dèi quindi è tutto fatto dottone bronzo metalli preziosi diamanti ed è una roba secondo me meravigliosa nel senso obiettivamente meravigliosa cioè io la rappresentazione del Parnaso dell'Olimpo di Gods cioè per me è così che è io non l'ho mai più rappresentato così bello no è vero Gods è impressionante ma anche se pensi pensa a The Chaos Engine scherzo che è un po' se vogliamo il loro il loro canto del cigno no no assolutamente sì anche perché poi dopo non si sono veramente mai più ripetuti e anche perché si è rotto un giocattolo fondamentale e cioè il fatto che loro avevano questa palette perfetta no? di colori freddi e caldi come gli hanno messo in mano no? una palette estesa si sono persi le strade sì sì una roba dei no? dei grigi caldi grigi freddi con cui si guarda si vede perfettamente qua cioè loro erano proprio io mi ricordo sì il peso di quei diamanti era terrifico e poi proprio rimbalzavano tonk 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 sì sì bellissimo sì loro avevano sempre questa roba molto sui grigi assolutamente sì lo si vede da beh speedball speedball che forse la loro usavano il loro manifesto sì sì assolutamente non saprei qual è qual è forse il titolo più rappresentivo di beatmap bros forse veramente speedball è speedball 2 2 sì speedball 2 sì volevo dire speedball 2 mega blast pure è importante come? xenon 2 mega blast xenon 2 perché comunque è la loro dichiarazione di intenti sì xenon 2 loro partono subito con un gioco di una bellezza veramente formale perfetta per quanto riguarda il il shoot em up e affidano la colonna sonora a un dj underground famoso loro lì proprio dicono noi parliamo in un certo modo bomb the bus peraltro che il pezzo di bomb the bus è un remix di assalto a distanza di john carpenter sì sì esatto e questa è la roba assurda che loro portano i videogiochi nel post nel moderno e nel post moderno se ci pensi sì secondo me loro la verità è che i beatmap bros sono quelli che hanno fatto la mossa cioè sono stati i primi ad aprire la testa a a tutti sul fatto che i videogiochi potevano essere una roba da adulti in qualche modo e potevano essere arte non solo ma potevano essere popolari al di fuori del negozio di giocattoli perché poi parliamoci chiaro cioè i videogiochi era una roba per bambini comunque in un modo o nell'altro che avevano anche un canale di riferimento comunicativo è estremamente di nicchia loro quello che fanno prendendo Nation 12 su Gods e Bomb the Bus su Xenon 2 è quello di dire i videogiochi sono nelle chart come la musica pop no? che è quello che poi ha fatto Psygnosis con Wipeout no? tirandosi dentro i prod la diesel anche Orbit certo Future Sound of London i vari gruppi insomma che hanno Fotec quelli che hanno preso parte della wave di Wipeout che poi se non sbaglio perdonami i Bitmap Brothers furono anche i primi a vedere i videogiochi in un certo modo anche per la stampa furono i primi a organizzare i press tour nel senso se tu prendi un gruppo di persone giornalisti dell'epoca e gli fai vedere il gioco parli con loro gli spieghi certe cose sì sì loro mi sa che alla fine erano loro e Bullfrog che facevano questa roba qui Bullfrog Peter Molinò nasce proprio perché è stato un grandissimo comunicatore della fase di pre-release che guarda caso è quello che ancora si vende molto più esatto molto più del gioco se vai a vedere poi alla fine come dire continua a farlo però sì è vero diciamo in questo senso anche hanno aggiunto questo aspetto fondamentale alla comunicazione dei loro dei loro giochi ma poi la cosa assurda anche che vedevo per esempio era il legame fortissimo che all'epoca c'era con le riviste di settore che mi raccontava John Air quando ci ho parlato ci ho parlato un'oretta un paio di anni fa che le riviste di settore partono fondamentalmente e ti parlo di Zapp ti parlo poi di TGM tutta sta roba qua da un'intuizione di un editore che si occupava di nicchie perché si occupava di riviste per la comunità omosessuale sì che è una cosa assurda se lo dici oggi al gamer medio gli esplode la testa cioè le prime riviste di videogiochi inglesi nascono perché delle persone avvezzi a parlare delle nicchie dicono aspetta un po' qui sta nascendo qualcosa c'è di più c'è un dettaglio in più ancora più interessante e cioè che se mi dai un secondo vado a prendere una cosa vai tranquillo intanto noi siamo qua stiamo qua e continuiamo intanto a parlare che si fa appunto questa cosa ne parlavo altro giorno altro giorno ma più di un anno fa ne parlavo con John Air che tra l'altro appunto ho scoperto essere uno che ci crede tantissimo nella Brexit John Air per chi non sapesse di chi sto parlando è il signore appunto che ha fatto questo bellissimo libro tanto dedicato a Sensible Software della Random Access Red Only Memory si chiama è una casa editrice bellissima che fa questi libri di tipo i Bitmap Books e ecco di qua perfetto eccoci qua dicevi appunto facci vedere sì che allora questa software house qui che si chiama Talamus la Talamus certo la Talamus che è famosa per aver fatto dei giochi come Hawkeye per come un spile molto fondeggiante sì sì e loro il bellissimo Snare che è un gioco incredibile per Comor 68 stupendo proprio e mettiamo subito tra l'altro loro avevano le copertine dei loro giochi erano fatte da Oliver Frey Oliver Frey è il copertinista di storico di Zap ok esatto da vedere un po' impossibile Snare perché è un gioco che tu rimani sempre dritto e lo sfondo gira di 90 gradi ogni volta che premi testa a sinistra per capirci chiudiamolo un attimo ti esplode il cervello a seguirlo giocato da qualcun altro francamente però è veramente un giocone bellissimo quando giri gira di 90 gradi lo schermo è una roba ingestibile è super divertente da giocare è divertente da vedere è impossibile non ci si può fare un long play con Snare diventi pazzo dicevo Oliver Frey fa questi giochi per la Talamus e la cosa che ho scoperto solo anni dopo è che Franco Frey è il fratello di Oliver Frey ed è il proprietario di Talamus ok ho usato la copertina di Oliver Frey esatto Talamus è stava al piano di sopra della redazione di Zap stava non nello stesso edificio e infatti una cosa che diciamo piano piano negli anni è venuta fuori era un po' questa roba che alla fine ok diciamo che era un gioco non proprio memorabile avesse preso dei voti incredibili anche perché c'erano delle pressioni umane quindi già all'epoca c'erano queste pressioni un po' forti e Oliver Frey che io sappia era un fierissimo sostenitore della comunità gay londinese quindi non mi non mi risulta impossibile questa me la ricordo tra l'altro non so perché me la ricordo questa cover qua di Zap questo sito al volo che le vende tra l'altro ma gli originali? credo sono tutte vendute in questo momento ci credo però si vendeva gli originali bellissimo vabbè per dirti che stampa cioè tu avevi una casa di software che faceva videogiochi che era integrata in qualche modo con sì 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 comunque con il settore la casa di software avevano persone che stavano a cavallo di una e dell'altra perché poi uno oggi si lamenta e dice ah perché prima era molto più onesto prima valeva il merito e basta in realtà prima era molto peggio ed era fighissimo secondo me per questo prima era era peggio e meglio in tante cose cioè tanti giochi non venivano finiti comunque c'era un è così c'era un approccio un po' diverso anche l'accesso ai giochi era completamente differente poi magari ne parleremo anche in futuro in altre live ne parlò con con il buon Paglianti che all'epoca gestiva K forse una delle riviste italiane che più di tutte cercò il salto di qualità verso veramente una cultura videoludica più alta ecco lo sai che K è stata la prima rivista in assoluto a non fare le foto allo schermo dei videogiochi e la odiavo per questo stampavano direttamente i screenshot grabbati dal pc che ovviamente ti forniva queste immagini incisa perfetta non avevi quelle foto un po' dozzinali che c'erano nelle riviste dei videogiochi però nelle altre riviste dei videogiochi tipo Kings Machine ad esempio però si perdeva tutta la magia del CRT catturato da bene e meglio che però tirava fuori questi screenshot e quando li vedevi dici ma com'è possibile che c'è una grafica così figa a sto gioco perché in effetti mi sembra che a te serva sempre qualcosa non ti interessa il tratto buono non ti interessa il tratto vero cioè qualcosa non ti interessa la perfezione formale in queste immagini ti interessava che fosse qualcosa appunto che sapeva di CRT di fosfori di attenzione ma io non è che lo facevo perché sono all'epoca io non ero passione di CRT perché non è che c'era un'altra opzione no non c'era però il punto è che erano proprio più belle le immagini perché tu non vedevi i pixel cioè vedevi un'immagine che sembrava una foto sembrava un pinto sembrava un'illustrazione no invece quando vedevi queste immagini grabate stampate dirette con i pixel quadrati era una tragedia oggi ora come ora la cosa bella della grafica retro è che c'è questi cubottoni no cioè Fez l'ha portata in gloria no dicendo addirittura il pixel è un cubo no diventa un oggetto astratto non è più un elemento pittorico il pixel diventa una roba rigida indeformabile con i lati ok una roba tipo Minecraft esatto cioè nel senso Minecraft è frutto di una logica sul pixel che porta il pixel a una dimensione che è mentale non è più pittorica ottica fotografica no ecco ma tu quando ti sei reso conto che secondo te i videogiochi potevano essere arte in questo momento più avanti ma allora diciamo che io l'ho sempre pensato in una maniera un po' ingenua perché semplicemente vedevo dei disegnatori bravissimi delle cose molto belle da un punto di vista formale cioè dei mondi incredibili questa roba qui e quindi ci stavo dentro ed era una roba che mi influenzava di più al pari o di più anche di illustratori tradizionali animazione cioè molti videogiochi mi hanno veramente plagiato da un punto di vista formale ecco io se dovessi dirti ti ispiri più ai giapponesi e ai americani no io mi ispiro veramente tanto cioè le mie radici cioè sono veramente tantissimo nel mondo dei videogiochi 80-90 sicuramente e e poi va detto che negli anni piano piano ho capito questa cosa che i videogiochi erano un medium che riusciva a raccontare le cose in una maniera diversa dagli altri supporti poi in particolare ho letto un po' di robe altri medium scusatemi altri supporti e altre forme artistiche e alla fine poi quando lessi le prime io ho avuto un amico carissimo che mi ha fatto conoscere Chris Crawford conoscendo Chris Crawford ho capito a cosa servono i videogiochi da un punto di vista artistico sono andato completamente fuori di testa e quindi mi sono cominciato a interessare i videogiochi come forma d'arte vera e i videogiochi che effettivamente riescono a darti delle cose che nessun altro medium riesce a darti no? sì perché in effetti sì il videogioco è qualcosa di unico nel senso come interazione ed anche è una cosa purtroppo lo dico sempre è anche molto difficile che questo qualcosa arrivi a un pubblico più ampio no no secondo me ci arriva come ti faccio un esempio faccio un esempio molto banale molto banale che secondo me è alla base della dissociazione mentale di tutti i giocatori di videogiochi anni 80 e non ha niente a che vedere è una forma mentis che si è persa grazie a Dio per certi versi e cioè se tu giochi a Super Mario Super Mario ti dice che se tu vai da A a B e prendi la via breve fai meno punti se ti metti a cercare quello che non ti viene richiesto cioè il gioco ti dice devi andare da A a B se poi tu ti metti a perdere tempo a cercare a smontare segreti di cose vieni premiato ok? ora noi italiani europei abbiamo una logica che è quella che se tu devi andare da A a B fare la strada lunga ed è imbecilli cioè è meglio fare il massimo col minimo sforzo no? in generale il tempo il denaro esatto allora se tu credi nell'accondizionamento pavloviano della mente Super Mario ti porta a ragionare come un giapponese ti porta a ragionare che tu devi cercare di dare di più di quello che ti viene chiesto perché gambatte sì cioè l'idea che comunque tu ti fai in quattro per fare sempre di più di quello che ti viene per fare meglio ok? è una roba che è molto lontana ma veramente molto lontana dalla nostra ideologia di base ok? e non non mi sorprende che molti giocatori di videogiochi degli anni 80 si siano trovati male nell'Italia degli anni 80 cioè non so cioè lo so che sembra no 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 è molto interessante perché è molto vero sì 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 è una forma mentis cioè quella del completista dei videogiochi è una forma mentis che non ha niente a che vedere con la nostra realtà attuale ancora poco piano piano ci stiamo andando in una direzione in cui siamo un po' meno dozzinati su certe cose però è un fatto che il videogioco giapponese ha formato una serie di disadattati perché ovviamente sì perché tu non venivi mai premiato per quella cosa in più che facevi nella vita vera cioè se io penso anche alla vita di un mangaka medio anche come la racconta per esempio i quaderni giapponesi se ti stai in un cazzo di hotel scrivi 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 arriva un tiz ottimo queste pagine scritte ce ne sono altre 400.000 vai comincia quello è un altro paio di maniche cioè che la mole di lavoro e la tolleranza allo stress ai giapponesi è incalcolabile però ecco ma perché vengono da un tipo di cultura che è estremamente differente basta pensare allo stress visivo a cui si sottopongono quando leggono cioè non sei per strada la mole di informazioni che per noi è è tutto pittorico il giapponese quando vai in Giappone per loro non è nessun problema hanno una capacità di sopportare una mole di informazioni infatti è il motivo per cui la loro elettronica di consumo è fallita completamente no? a un certo punto loro avevano i lettori mp3 di sony 3.000 bottoni 2.000 funzioni e ho dato l'iPad con un bottone al centro e c'è un cerchetto purtroppo è così cioè il punto è che immaginati che come io faccio spesso questa metafora immaginati che l'unico produttore di pensili per cucina sia che ne so di una popolazione alta in cui l'altezza media è 2 metri no? tutto il po' il mondo si abitua a salire su una sedia per prendere i bicchieri perché lo fai cioè sono gli unici che si sono lo fai quando arriva uno della tua altezza che dice ma perché noi li mettiamo a 1,70 e gli altri quelli lì che erano gli unici oggetti esistenti che erano i più venduti del mondo smettono di vendere perché hanno una barriera in più no? e le interfacce giapponesi sono una barriera non c'è niente da dire cioè loro per fare una funzione ti chiedono di premere 50 bottoni e ti guarda il menu di un gioco giapponese oggi esatto cioè se tu prendi un RPG giapponese anni 80 era cerchio 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 dove entrare in 10.000 sotto menu oggi tu fai tutto possibilmente senza premere ancora fan così esatto è una roba è una roba quindi no questo per dirti che ha voglia se i videogiochi influenzano la mentalità e io ti faccio un esempio secondo me nobilissimo che è Papers, Please Papers, Please è un videogioco in cui tu devi timbrare dei documenti della gente farla passare o non farla passare quello che ti dice quel gioco alla fine della surf è che anche dal posto più umile di lavoro che tu hai nel mondo puoi come dire occupare la società ok tu puoi salvare puoi cambiare la storia del mondo ed è una roba vera perché tu lui te lo fa fare cioè tu decidendo di assumerti la responsabilità magari di far morire di fame la tua famiglia lasciando fuori un criminale di guerra dalla tua città e ti dai soldi magari per passare esatto decidi il futuro della tua nazione e lo fai da impiegato allo sportello dell'immigrazione cioè questa roba qua è pazzesca la puoi fare solo un videogioco solo un videogioco perché tu lì anche farti capire l'allenazione della burocrazia certo lo stress di da qui sei sottoposto di centomila timbri che metti nella tua vita la scelta sbagliata di quello specifico timbro può cambiare la storia della tua vita dell'umanità di tutti può uccidere persone ci sono dei pezzi in papers place in cui tu magari fai passare una persona che ammazza un amico tuo che sta la guardia quella che è o si fa saltare si mi ricordo una volta di uno che l'ho fatto passare e si è fatto saltare tre metri dopo no nel senso se non è arte quella ma cioè nel senso è una roba cittantesca è una roba enorme e funziona da morire e quella roba lì arriva a un pubblico particolarmente esteso ma Call of Duty Call of Duty fa io mi ricordo questo questa missione di Call of Duty in cui tu sei in un ascensore no Russians eh con le donne cecene con l'esplosivo addosso che ti fa che devi sparare nell'aeroporto quella che fece scalpore esatto quella roba lì è una forma di manipolazione dell'opinione mostruosa cioè comunque ti plasma il modo di pensare infatti posso dirti una cosa io sono fra i pochi amanti dei videogiochi diciamo con la piena consapevolezza di che cosa è l'arte cos'è lo stimolo e quant'altro io sempre per dire non condivido i giocatori che prendono in giro la stampa che dicono che i videogiochi come dire in qualche modo influenzano negativamente il pensiero perché secondo me è vero cioè lo possono influenzare positivamente o negativamente quello è solo che il videogioco è un po' più infame perché il videogioco ti porta a pensare in un certo modo cosa che invece il cinema non ti fa il cinema tu quando vai a vedere un film vedi una storia e hai quell'istinto wireista da primate di dire vediamo come va a finire la storia di questa persona mi interessa capire che fine fa muore non muore si innamora non si innamora questa roba mi interessa perché è una cosa che sta succedendo a un'altra persona e io posso farne tesoro per la mia futura esperienza cioè il principio di base su cui si basa il cinema proprio in maniera brutale è quello alla fine è dozzinale come modo di metterla giù ti racconto una storia ma c'è quell'aspetto è molto forte c'è assolutamente il cinema il videogioco è diverso perché il videogioco io da autore ti metto in condizione di pensare che quello è il modo migliore di agire o che la causa-effetto che tu hai visualizzato fa parte del reale Chris Crawford quando ha fatto Balance of Power e ti mette in condizione che ogni volta che scoppia una guerra tu perdi lui lì ha messo un eccentrico nel gioco che non è dichiarato nel gioco però ti forma una mentalità ed erano in piena guerra fredda che fare la guerra è sbagliato ora questa cosa qua è la cosa più bella del mondo e lo fanno solo i videogiochi pensa anche a Missile Command ma scherzi mi si scoppia come gioco in cui non puoi vincere esatto perché in guerra non puoi vincere esatto è una roba foe io quando ho elaborato questa cosa anni dopo averci fatto da ragazzino a me mi esplosa la testa ma è così quindi io come dire ecco appunto scusa è stata una smentita lunga però ti dico per me i videogiochi proprio hanno assolutamente tutta la forza espressiva del mondo in particolar modo oggi il problema è che spesso bisogna bisogna accettare il fatto che parlano un linguaggio di regime cioè i videogiochi sono come dire una roba di regime sono espressione di un potere commerciale di un certo tipo di modo di pensare e non dimentichiamoci una cosa che dico sempre che comunque il videogiochi storicamente nasce in un contesto militare industriale e da lì difficilmente può scappare cioè ci scappa ogni tanto l'abbiamo visto quando diventa un'espressione punk come in in Inghilterra con l'Amiga e il Commodore 64 che diventa veramente la chitarra elettrica di molti ragazzi sì ma tu l'hai giocato ci hai giocato a Last Guardian certo Last Guardian è un altro o Shadow of the Colossus sono giochi che dentro c'hanno dei messaggi che sono potentissimi sì eh cioè cioè quando c'è un prodotto ti rendi conto che sei il cattivo di quel gioco è una roba grossa che c'è un ribaltamento da io sono leggenda cioè veramente ma come anche in Last Guardian l'idea che in Last Guardian c'è questa vabbè non lo diciamo perché magari c'è gente che non ci ha giocato e sarebbe un po' uno spoilerone quindi no però ecco ci sono tanti artisti in realtà che continuano a usare il videogioco come una forma di espressione per comunicare delle cose che sono completamente fuori da da ogni banale convenzione quindi no mi sento no esatto l'ultimo gioco ti racconta un po' l'ultimo gioco che ti ha dato questo tipo di brivido ora qual è stato secondo te Last Guardian proprio Last Guardian l'ultimo io ammetto che ho avuto dei problemi con Last Guardian no io no perché tutto l'impianto incasinato di controlli di glitch ma quello mi piace mi ha distaccato dalle parti emotive del gioco ma sai perché mi piace mi piace per due motivi quella roba che stai citando tu secondo me allora facciamo un gioco facciamo un gioco facciamo conto che c'è un un giudice ok e siamo in tribunale ok io sono fumito Ueda e tu sei Lorenzo Fantoni che è rimasto deluso no da quella cosa esatto ok la tua la tua tesi d'accusa è quella che io non ero in grado di fare quel gioco senza quei limiti no no la mia accusa è che purtroppo quei quei limiti quegli errori quelle cose che io non sono la tua tesi è che sono cioè tu stai dicendo a un first party Sony ci sono degli errori e lo so mi rendo conto che è una dichiarazione per assurdo quella che stai cercando di portare avanti non può essere ma è ovvio che non è per quel motivo che quel gioco è fatto secondo te dici che è un po' come quando Resident Evil ti faceva fare il gioco macchinoso per metterti l'ansia degli zombie ma è certo cioè in quel gioco non riesci mai a vedere dove vuoi non riesci mai a mettere la camera come la vorresti perché ti devi buttare nel vuoto ok questo è un bel punto di vedere la una di cadere fottuta quindi se quel gioco fosse stato un gioco che ti permetteva di vedere tutto il livello tutte le angolazioni liberamente ma è dove era la magia di quel gioco ma così come anche il fatto che Trico non ti risponde quello va quello è corretto perché io ho un cane e so come funziona ma certo cioè la gente si lamenta e dice ma non è vero che sta a sentire quello che dici grazie al cavolo Trico è un personaggio che ha la sua intelligenza e tu devi portarlo devi convincerlo alle volte alle volte fa delle cose di testa sua alle volte ti mette nei guai cioè voglio dire queste cose qua è un quante volte mi ha ammazzato guarda Yorda in Ico sai perché ti dico Yorda in Ico è un personaggio particolare perché per capire veramente Yorda in Ico secondo me bisogna aver capito fino in fondo Bubble Bobble lo so che sembra una connessione adesso ti voglio portare a parlare di Bubble Bobble esatto perché talk me about Bubble Bobble perché Bubble Bobble ha questa caratteristica assurda cioè sapete cosa sono le tile in un videogioco sono le mattonelline che tu vedi che compongono il level design quindi le piattaforme su cui tu ti puoi muovere che sono fatte colorate su fondo nero ora le tile che compongono un livello di Bubble Bobble sono alcune sono visibili e sono quelle su cui tu puoi saltare sopra ok e poi sono delle tile invisibili che sono il vento ok sono delle frecce diciamo ideali invisibili che ti dicono che se una bolla passa di là gira si sposta sale fa questo percorso sono delle correnti ascensionali ora quello che è interessante di Bubble Bobble è che per capire fino in fondo Bubble Bobble devi cominciare a vedere l'invisibile cioè devi cominciare ad avere chiaro il fatto che ci sono delle informazioni nascoste nello stage di Bubble Bobble che ti permettono di finire lo stage e in alcuni stage è proprio indispensabile farla quella cosa lì se no no ok in in Ico in Ico Iorda è programmata in un modo incredibile e cioè se tu te la porti in giro per mano ok il modo per capire perché Fumido Eda è un genio assoluto è vedere dove guarda Iorda palesemente dentro i livelli di Ico ci sono dei punti che sono ovviamente sono dei come si dice di hot spot ok sì certo i livelli sono rilevanti non c'è gioco dove guarda Iorda che sono dei punti dove Iorda è interessata a vedere che possono essere i fiori che possono essere le farfalle che possono essere magari dei disegni sul muro che possono essere delle robe che non sono nello spazio interattivo del giocatore sono nello spazio dell'intelligenza di Iorda e il motivo per cui Iorda a un certo punto ti sembra sempre che vada no a mettersi nei pasticci ma perché vai là come bambini bravissimo cioè la cosa fondamentale è che cominci ad amare Iorda come personaggio quando capisci che ha una sua mentalità no e quindi e il fatto che tu debba strapparla no alla sua attenzione per portarla in giro oh ma che cavolo deve fare un game designer per emozionarti di più cioè è una roba pazzesca no 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 quello è una roba fondamentale Chris Crawford dice una roba fondamentale cioè se tu vuoi capire se sei davanti a un videogioco bello o brutto scrivi la lista dei verbi che descrivono le azioni che puoi fare in quel videogioco se sono saltare sparare aprire una porta infilare una chiave diciamo che probabilmente stai davanti sempre allo stesso videogioco no alla fine è appena descritto Doom o Zelda potrebbero essere entrambi ma Doom c'è una serie di robe in più però torniamo su Doom però Ico tira dentro un verbo che non si era mai visto prendere per mano ah quelle folle no è tutto là è in un verbo in un verbo in più è possibile che nei videogiochi non ci possano essere tantissimi verbi in più no infatti ecco il vedere i videogiochi attraverso i verbi credo sia una bellissima chiave di lettura in effetti ma dopo ti chiederò anche secondo te quali sono i libri importanti per capire i videogiochi a questo punto ovviamente io ti ripeto ci sono cascato dentro ci sono cascato dentro quindi sono per certi versi sono dozzinale no come tipo di approccio perché perché non è che ho non ho studiato sui libri di game design per capire certo anche io ho studiato sui libri anche io sono che però l'ho proprio giocato tutti cioè l'ho giocato un botto una quantità vergognosa di videogiochi ho giocato quindi diciamo un po' ecco sono più un è come se fossi un letterato piuttosto che un poeta probabilmente nel senso che ti so parlare tanto di videogiochi magari forse non ne saprei fare uno con la competenza necessaria però quello nemmeno io onestamente però ecco credo che The Balance of Power sia un titolo importante se si vuole gestire comunque ecco leggersi le cose che ha scritto Chris Crawford a me m'ha cambiato così come ho letto tanta roba anche scritto da Lucas Pope cioè tutti i post Gamasutra l'ho letta sempre c'è un bellissimo blog e ogni lecture che ci sta là in mezzo è un capolavoro quindi voglio dire esatto le risorse su web sono più interessanti di quelle stampate forse forse sì però ecco facciamo una cosa non è che perché quindi di videogiochi devi giocare tanti videogiochi aiuta però non è solo quello ci vuole un attimino anche secondo me di sensibilità mi chiedono dalla chat domanda che ormai facciamo tutti cosa ne pensi dei Souls like io penso tu ne pensi molto bene di Dark Souls e compagnia no allora io odio i le etichette tipo metroidvania souls like a me piacciono i giochi ok che un problema dei videogiochi sono in effetti i cassetti che come il metal li mettiamo tutti i vari ma lì mi scoccia da morire e sono cresciuto negli anni 90 dove i tipi di videogiochi erano quattro ok si intorno agli anni 90 abbiamo definito un po' tutte le però però in questo momento storico secondo me c'è un c'è proprio un problema grosso di tagging no cioè che veramente diventa è tutto in feedback con se stesso è noiosissima la scena di queste grosse macro categorie no e quindi se mi chiedi i generi non mi piacciono non mi piacciono proprio ecco non mi piacciono i generi mi fanno impazzire i giochi belli io ho giocato Dark Souls e Dark Souls mi è piaciuto e non mi è piaciuto mi è piaciuto per delle cose molto belle ad esempio per dire credo che sono uno di quei giochi in cui il viaggio te lo ricordi come in pochi altri videogiochi cioè i posti dove sono stato in Dark Souls me li ricorderò tutta la vita e trovo che mi fa un po' rosicare il fatto che essendo un amante di Shadow of the Beast e del gioco Ipsignosis quando arrivi in quella stanza con la tipa enorme gigantesca adesso non mi ricordo come si chiama figurati io che guarda non li abito oppure la scena quella del combattimento nel corridoio che si allunga col tizio con un corridoio infinito ci sono una serie di momenti in cui il gioco fa il salto che dici oh cavolo qua siamo andati oltre quello che uno si può immaginare cioè ci sono delle idee potenti delle robe che non ti aspetti di vedere per il resto diciamo è molto banale nel senso comunque i cavalieri i draghi le cose c'è roba stravisto è stravisto e quindi diciamo che quando spicca al volo e quando entri nel quadro cioè quella roba lì mi emoziono che me la ricordo tutta la vita il resto è un po' una roba che dici vabbè stravisto proprio anche anche noioso a volte il gioco in sé c'ha delle cose che io non supporto proprio non sono un amante di questa roba di dire ah il gioco che comunque ti tempra no secondo me Dark Souls c'ha delle cose orribili che sono frustranti e basta non regalano niente l'esperienza di gioco sono molto d'accordo con te niente fanno solo rosicare e basta e voglio dire siamo nel 2020 e quindi in certe cose io non le tollero e basta ho notato ho parlato di difficoltà dei giochi in questi giorni ne ho sentito un po' di opinioni che molti dicono però se quella difficoltà è ciò che voleva il game designer il videogioco più facile non ha senso perché è come vedersi che ne so un film pensato per il cinema però vederselo su un televisore o altri supporti è come dire un film deve durare sei ore lo fai durare due ore no no ma parliamo proprio che secondo me in Dark Souls sono delle cose che non hanno senso e basta cioè quella cosa che devi ranschippare il livello tutte le volte per andare a fare il boss ma che vuol dire cioè dov'è la difficoltà in più dov'è la difficoltà in più adesso non è difficile ranschippare il livello non è difficile è una cazzata perdi solo una quantità di tempo mostruosa di non gioco noiosissima e che poi alla fine batti il boss e dici ok non devo più ranschippare il livello grazie cioè ma francamente non ci trovo neanche un vantaggio in quella cosa lì posso accettare il fatto di dire eh ma quando il gioco era online potevi avere un'invasione mentre stavi ranschippando e quindi non potevi proprio ranschippare sempre perché c'era sto pericolo che magari ti beccavi uno che ti stabbava mentre stavi andando a fare il boss e vabbè sarebbe stata la centunesima morte cioè voglio dire ma che te frega cioè voglio dire non è un vero valore quindi no per me Dark Souls c'ha delle robe che io non giustifico trovo molto interessante Sekiro invece da quel punto di vista ma lo trovo meno interessante per il fatto che Sekiro con questa cosa che non ha le build è strutturato proprio come shinobi cioè un gioco che lo inizi lo finisci e poi non ci vuoi giocare mai più Dark Souls invece ha questa roba delle build che se non fosse che se non fosse un gioco che comunque ti frustra a dei livelli mostruosi uno potrebbe anche avere voglia di rigiocarlo però il tempo è poco la vita è breve quindi a un certo punto Hidetaka Miyazaki io gli dico ti ho giocato una volta e ciao c'è qualche gioco che aspetti ora di recente nel futuro diciamo questo lo vorrei proprio provare è uno proprio per cui sono in grado sono capace di uccidere per giocarci ed è infatti mi si è riaperto un chakra che si era tappato con un teschio di marmo praticamente e che è PT PT Silent Hills Silent Hills io lo voglio proprio giocare e il fatto che è stato annunciato che verrà rimesso in cantiere mi riempito non è ancora sta roba di Konami ancora non si è capito tanto oggi girava sta voce folle oggi girava sta voce folle che l'hai sentita di xbox che si vorrebbe prendere tutte le IP Konami ma non era Sony qualche giorno fa era Sony adesso è diventata chiunque se lo prende se lo fanno io faccio una rapina a mano armata per giocarci mi chiedono se hai giocato a Talos Principle che allunga e diminuisce sensibilmente il gioco in base alla filosofia del giocatore guarda io sono un carissimo amico di Marco Calcaterra Sangre che è anche un recensore che è qua tra l'altro l'ho visto qualche parte ciao Marco ciao De Sangre che ogni volta mi dice Lorenzo c'è Talos Principle ha un euro se non lo compri sei deficiente ok io continuo a non comprare Talos Principle ma è un gioco che voglio giocare è uno di quelli che vorrei giocare tantissimo e quindi chiedo scusa per l'ennesima volta dimostrando che Marco Calcaterra ha ragione se sono stato un deficiente a non comprarlo e invece ecco come è stato perché io stavo pensando ai miei momenti fondanti della carriera di giocatore ovviamente ci sono le basi Pong poi Final Fantasy 7 che è stato il primo gioco a farmi veramente piangere si parlava per esempio della paura e Doom Doom è un gioco che può farti paura secondo me sì anche se di base non c'è di base l'idea è che loro sono chiusi lì con te però ti può far paura beh nel senso Doom comunque tu per arrivare cioè Doom quando muori ecco Doom alla fine c'aveva una una dinamica souls like che John Carmack e John Romero mi perdonino perché lo dico ovviamente per ridere perché ripeto un'etichetta orrenda che andrebbe cancellata dalla faccia della terra nel senso che tu a Doom quando muori muori quindi hai un attaccamento alla tua armatura le tue munizioni le tue armi tutto quanto è folle quindi è chiaro che c'è il salvataggio c'è il salvataggio e puoi salvare in ogni momento del gioco e quello chiaramente abbassa drasticamente l'ansia però non so se i primi delle prime volte nelle prime persone Shower si poteva salvare sai sì 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 si può è che uno non era abituato e non lo faceva la verità è questa cioè che noi giocavamo a Doom ragionando come se stessimo giocando a Shinobi ma la verità è che avremmo potuto salvare ogni nemico che uccidevamo è proprio la forma mente la testa non c'era ancora e comunque a Doom capitava che giravi un angolo e ti trovavi con 3000 mostri mai visti prima che ti vomitavano addosso una valanghe di palle di fuoco quindi voglio dire a Doom sì si provava una paura autentica perché poi era uno dei primissimi giochi che ti metteva in primissima persona è come i primi giochi in VR adesso se giochi a Resident Evil in VR la gente rischia infarto cioè non si può fare quindi voglio dire sì infatti la prima persona fu proprio un cambio grosso ma che scherzi totale che poi è ottenuto al prezzo penso della sanità ambientale di Karmak ma ti dico di più che io avevo paura a giocare a Dungeon Master cioè io avevo paura a giocare a Dungeon Master Eye of the Beholder avevo paura a giocare a tutti quei giochi che comunque ti chiudevano in uno spazio stretto da solo al buio per ore poi quelli erano giochi in cui magari succedeva un evento ogni tre quarti d'ora e quando capitava e magari era sonorizzato cioè morivi di paura scherzi no io mi ricordo Doom fu una roba la prima cosa che ho fatto giocando a Doom è stata nel primo livello mi sembra che c'è una parte in cui il segreto per ottenere la prima armatura sì devi abbassare quella parte che c'è una finestra e mi da tutte le cose mi mise a guardare fuori e rimase affascinato da sto mondo che non avevo mai visto queste montagne lontanze sì sì è bellissimo non penso che il gioco fosse pensato per quello però torniamo al discorso che dicevi prima assolutamente sì sì se tu leggi le interviste a John Carmack a John Romero ti dicono questa roba qua sì è vero che in effetti devo dover rileggermi un po' Masters of Doom in effetti sì 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 no no lo sapevano cosa stavano facendo lo sapevano perfettamente sì sì no è vero è incredibile ma tu hai presente cosa vuol dire essere John Carmack a John Romero in quel momento no ma è una roba e dicevi che abbiamo fatto questa cosa vabbè quindi no sì e tutto parte perché loro volevano scopiazzare Mario a me sta cosa mi fa impazzire è pazzesco perché forse chi non lo sa tra le persone collegate John Carmack parte con la scimmia di fare dei motori grafici che riescano a emulare la precisione la fluidità delle console su Amiga su PC e su Coma sui sistemi dell'epoca con personal computer e riesce a fare una copia perfetta di Mario e lo porta alla Nintendo cioè mi immagino questo era Nintendo che gli arriva a Carmack sto ragazzetto con gli occhialoni gli fa volete mettere Mario su Commodore che cazzo hanno pensato questi vabbè folli quindi no sì no secondo me si può avere paura e ti ripeto anzi peggio ancora cioè con le avventure testuali io avevo paura figurati quelle della Frankenstein ma io la prima paura l'ho avuta pensa con Ghosts and Ghosts e la colonna sonora di Team Fallen è bello caspita è vero con le gocce d'acqua bellissimo bellissimo no una roba folle e poi vediamo Alone in the Dark forse ecco ci sportiamo sul 3D sì Alone in the Dark era un gioco che mi faceva abbastanza paura beh Alone in the Dark c'è quella scena col fantasma che si alza dalla sedia eh che diventa quella specie di turbine che spazia cioè quella roba lì è estrema proprio però non c'aveva quasi sonoro penso no è una musica tristissima che poi è bellissimo perché nel cambio col 3D una roba che i videogiochi forse hanno guadagnato o forse perso è proprio il taglio cinematografico sì sì cioè il bisogno no 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 i videogiochi hanno perso il taglio cinematografico no hanno guadagnato ma perdendo forse qualcosa nel bisogno di fare un linguaggio che fosse simile al cinema se vogliamo ma non lo so non lo so secondo me anzi devo dire che se c'è una cosa che c'è stata a un certo punto anche i videogiochi hanno avuto questa forma di ma soprattutto poi non ho capito da dov'è che parte questa roba comunque questa forma di questo senso di inferiorità nei confronti del cinema per cui sono poi sarebbe interessante capire quando parte però diciamo quella roba lì poi è diventata quella mostruosità che è diventata poi il videogioco di John Cage ad esempio che io che comunque se ci pensi parte dai primi cd videogiocchi su cd fantasmagoria quella roba lì o non da dragon slayer dai top non la capisco perché quelli sono giochi che ti mettono avanti a mille scelte nessuno è interessante stupendo però a me è piaciuto l'ultimo l'ultimo di Cage a me Detroit a me è piaciuto o forse me lo sono fatto piacere a me non è dispiaciuto non li capisco cioè proprio non li capisco cioè confesso di non capirli però all'epoca in cui ti guardavi dragon slayer non potevi non rimanerne affascinato eh però dragon slayer per me non si può chiamare videogioco dai allora secondo me è il primo caso in cui la grafica ci ha fregata a tutti con un gameplay di merda ma non c'è gameplay dragon slayer no infatti ti 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 cioè dragon slayer è una specie di boh memory è una poesia da imparare a memoria sì ma non è che fai scelte interessanti no non fai scelte fai scelte utili ad andare avanti beh Sid Meier diceva che un buon game design si misura in scelte interessanti per secondo ok e io penso che sia vero e e e io credo che non c'è una sola scelta interessante ad andare avanti c'è la scelta di se non le morti buff c'è la scelta di non giocare la più interessante però che ne pensi di Don Bluth di vederlo oppure di aprire un long play però veramente cioè non è un videogioco dragon slayer però che ne pensi di Don Bluth come come artista come artista è un genio assoluto ma infatti è un bellissimo cartone animato dragon slayer è un videogioco che non capisco perché viene considerato un videogioco beh qualunque dvd che puoi saltare giochiamo a saltare le tracce di questo film bellezza sono d'accordo con te che è si è una roba abbastanza però aspetta perché De Sangre che evidentemente c'ha il dente avvelenato con te ci dice parlaci delle scelte interessanti del primo Shadow of the Beast allora allora il primo Shadow of the Beast ha un sistema di gioco che è quello di karate di karate come cavolo si chiama karate si international karate o karateka è Kung Fu Master allora Marco parlami delle scelte interessanti di Kung Fu Master perché io quello che ti dico è che secondo me quello che è interessante di Shadow of the Beast è chiaramente il fatto di farti fare un viaggio formale ok che è è fuori scala e oltretutto un videogioco di una difficoltà mostruosa e che ti mette davanti a una scelta che ha una come si dice ha un gameplay che per l'epoca per la sua basicità totale ok comunque resta il gameplay conforme a come erano i videogiochi dell'epoca di cosa stiamo parlando cioè è un beat em up a scorrimento orizzontale con una forma che lo rende unico e voglio dire ci sono 3000 scelte artistiche interessanti in Shadow of the Beast ok resta un gioco giocabile comunque si 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 comunque puoi fare più cose diciamo così questo è ora sto facendo vedere Kung Fu Master che è un grande classico con questa postura sempre un po' piegata mi ha sempre fatto vedere un po' fantastico guarda io credo che abbiamo sviscerato un bel po' di roba se ci sono delle ultime domande questo è il momento giusto in cui in cui spararle ci tengo a dire un'ultima cosa su Shadow of the Beast vai vai continuiamo continuiamo Shadow of the Beast è un videogioco a me piace dirla così questa cosa ok però è chiaramente un mio un mio modo metaforico ok di dire questa roba qui che in Shadow of the Beast parti che sei una bestia poi diventi un troglodita nel 2 e nel terzo diventi finalmente un Homo Sapiens ora il terzo gioco della serie è stupendo ok e credo che sia evoluto è veramente uno dei giochi più belli mai fatti cioè secondo me Shadow of the Beast 3 è come Another World è come Fats è come Paper's Please i grandi giochi della storia secondo me del videogioco Shadow of the Beast 3 è veramente bellissimo ed è bellissimo proprio per le scelte che ti fa fare ok quindi è ovvio come dire che non c'è paragone io non mi permetterei mai di dire però che Shadow of the Beast 1 sia un esempio di grande game design però è una bellissima esperienza interattiva questo senza dubbio nel caso di di Dragon's Lair io credo che l'esperienza sia pessima penso che sia un bellissimo cartone animato smontato che ti devi torturare e perdere tutti i soldi che hai per vederlo tutto cioè boh francamente insomma ecco non lo metterei sì sì non rientra nei tuoi giochi preferiti chiaro no no ma non rientra nei giochi nei giochi allora poi ti chiedono cosa ne veste le operazioni di remake tipo Shadow of the Colossus Remastered Resident Evil Remake nuovi tutto ormai da una parte c'è la preservazione no e quella è una roba importante per cui una parte del gioco rimane in piedi trovo orribile il fatto che il videogioco ha una forma ad esempio la qualità delle texture la tecnica del motion blur che si sono inventati tutta quella roba lì serviva a compensare un determinato tipo di limite della macchina no quindi quel gioco in realtà ha una forma che è strettamente legata alla macchina su cui gira anche la risoluzione del display su cui è stato pensato per essere visualizzato alzare la definizione delle texture alzare la definizione dei modelli 3D rivedere completamente l'engine è una roba che ti allontana dall'esperienza per cui è stato pensato il gioco ma questo senza nessun dubbio e lo dico da artista grafico visivo cioè a me francamente mi dispiacerebbe vedere il mio gioco smanettato male da terze parti e il 99,9% delle volte non sono fatti con la cura che dovrebbero i giochi di remake però comunque Resident Evil 2 remake è proprio un altro gioco che diventa molto più 3D molto più dinamico no 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 allora per dire un esempio eclatante e buono è proprio Resident Evil 1 che è uscito per Game Boy per Game Cube scusami ok quel Resident Evil 1 è veramente un bel gioco perché loro hanno ripensato il gioco è un rework non è una versione non è una versione HD del gioco è un gioco ripensato da capo quella cosa anche io le versioni HD anche io le trovo ridicole no mi fa schifo e poi chiedono un consiglio di getto un film libri manga una roba non mai in stream un film un libro e un manga da consigliare allora un film roba non troppo vista mi chiedono beh roba non vista la ti direi che i miei due film preferiti sono dello stesso reggimento regista e sono di Andrei Tarkovski e sono L'infanzia di Van e Andrei Rubloff scritto Roublev ti consiglio di vedere Andrei Rubloff ecco se devo scegliere ti consiglio Andrei Rubloff e senza dubbio e è un capolavoro se non ti regge di vedere un film in tre ore è diviso episodi quindi puoi vedere un episodio alla volta se vuoi Andrei Rubloff è bellissimo se proprio non vuoi vederlo tutto vediti l'episodio della campana di Andrei Rubloff cerchi la campana Andrei Rubloff mi sa c'è pure su youtube bellissimo e poi ti direi la campana è una delle più belle riflessioni sull'arte che esistono in assoluto quindi da vedere assolutamente poi mi hai detto scusami un libro un libro narrativo narrativo saggistica secondo me te la puoi giocare sì sì è una tua scena un libro ti direi mi piace ma un libro divertentissimo che ti consiglio ai giocatori perché secondo me è un libro che i videogiocatori impazzirebbero a voler vedere interattivo in un secondo è un libro che si chiama Flatlandia di Hubbot ah vabbè perfettissimo è un gioco sugli engine grafici proprio quindi visto che siamo a tema videogiochi ti direi Flatlandia e poi recentemente proprio invece ho letto un libro che mi dicono tutti devi leggere devi leggere perché guarda che stai facendo perché Geist Machine a quanto pare ha tanti punti e a conti fatti avendolo adesso ho letto è mia colpa non l'ho mai letto in vita mia devo dire che in effetti ci sono un po' di punti di contatto manco pochi recentemente ho letto Il Signore delle Mosche che non l'ho mai letto che è bellissimo ma non lo dico io insomma voglio dire ha vinto il Nobel lo scritto e poi mi ha detto di manga parlavano di manga un manga un manga bellissimo allora un manga bellissimo allora ne dico uno nuovo e uno un po' vecchiotto già allora uno vecchissimo uno vecchiotto e uno nuovo ok uno vecchissimo è Dororo di Osamu Tezuka ok è il più bel fumetto d'azione del mondo ok di samurai rimango sui samurai con uno vecchiotto che è l'immortale che è stato ripubblicato di recente non mi ricordo da chi comunque c'è forse Panini l'ha ripubblicato tutto non mi ricordo comunque è pazzesco compratelo e e poi un manga recente bello un manga recente la sfida è quella no no è chiaro è più difficile perché io per quanto comunque continuo a leggerne tanti che comunque immagino che la formazione tua sia continua la Sanni di Tayo Matsumoto è veramente bellissimo Sanni di Tayo Matsumoto ah oppure no scusate scusate Buonanotte Pum Pum di Inio Asano Buonanotte ok sì ce l'abbiamo ce l'abbiamo comunque tutte e due non si sbagliano mi fa di capire no anche con Sanni è meraviglioso ma Buonanotte Pum Pum è ecco per farvi capire perché è importante secondo me è il fumetto che utilizza il medium fumetto nella maniera più potente al momento possibile in termini proprio di risorse del racconto ok di quello della tecnica del racconto non arriva dove arrivano autori come Chris Ware che fanno esplodere la tavola e la tavola diventa un oggetto grafico in cui ci sono delle interazioni che vanno oltre quella che è la sequenza però rimanendo in una sequenza diciamo vicina all'animazione e alla cinematografia quindi con una narrazione di sequenziale classica ok all'interno del classico Buonanotte Pum Pum è una roba per quello che mi riguarda stellare formidabile l'ultima domanda te la faccio io cosa stai lavorando adesso di interessante particolare cose nuove è il mio nuovo libro per Bao fa parte di una serie di tre libri perché è una storia molto lunga e quindi è una storia divisa in tre parti già il nome mi piace il nome è Fego sembra un gioco di Yoko Taro il nome grazie lo prendo come un ottimo un grande complice sì 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 è una storia di remake che pubblicheranno visto il vecchio Nier sì sì assolutamente che dire io ti ringrazio tantissimo per questa cosa mi hanno detto addirittura no vogliamo la rubrica fissa con Lorenzo non penso possa voraccio però sarebbe bello in effetti riaverti l'altra volta quando vorrai fra un po' ne riparliamo volentierissimo magari ci dedichiamo a qualche altro a qualche altro deep dive dentro la cultura videoludica che insomma mi sembra che ce ne sia da tante cose da dire e grazie da parte della chat oggi è arrivata tantissimi grazie a tutti grazie a te e buona serata a buona continuazione ciao 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 grazie mille ciao ciao ciao